Io ho un'altra visione delle cose, per esempio il titolo secondo me più significativo dei giornali sulla vittoria del centro-destra è stato del manifesto, perché ha detto Prodi ultimo avviso, ma di chi? Avviso dalla sinistra a Prodi, mi auguro, o no? Se posso permettermi di spendere una parola a favore di quello che dice Perlando, perché lei non può andare in giro con certe gnocche che a me mi mettono negativo umore, prego!